C'è chi inizia oggi la sua stagione come l'Isernia, c'è chi invece è ancora in stand-by. Eccellenza o Serie D per l'Olimpia agnonese? La FIGIC in Molise e l'Olimpia agnonese attendono la Lega Nazionale di Lettanti per l'elenco delle squadre ufficialmente ripescate nella quarta serie nazionale. Le speranze che il club alto molisano possa disputare il nono campionato consecutivo in Serie D sono alte, ma senza l'ufficializzazione non si può partire con la campagna acquisti. Staff tecnico e parte della squadra sono già stati contattati. Come detto, anche il Comitato regionale della FIGIC in Molise è in attesa di conoscere il futuro della squadra alto molisana. Infatti nel consiglio direttivo indetto per questo giovedì dovrebbero essere resi noti gli organici di eccellenza e promozione 2015-2016. Ad oggi l'Agnone ha effettuato una prescrizione nella massima serie regionale, visto che l'eccellenza è il suo campionato di competenza. A Disernia parte oggi la nuova stagione con un raduno per classe 96-97-98, anche se ufficialmente il ritiro della squadra è previsto per domani mattina alle 9.30 all'Ancellotta. Confermato lo staff tecnico, allenatore De Bellis, il vice Minichetti, che si occuperà anche dei portieri, preparatore atletico Argano. Questione squadra, si parte dalle riconferme di Panico, Pepe, Mingione, Sabatino e Tuccia. Altri 4-5 senior dovrebbero arrivare entro questa settimana. Per il pacchetto under si punterà sui talenti locali. Il ritiro prevede doppia seduta per tre settimane, con la fine della preparazione prevista il 13 agosto. A Termoli l'Associazione Gente di Mare è indetto per domani mattina alle 11 presso il Bar della Posta una conferenza stampa per chiarire la loro posizione in merito al Termoli 1920, che si è iscritto nel campionato di eccellenza rinunciando alla Serie D. L'Associazione Gente di Mare nell'occasione illustrerà anche i loro programmi per il futuro. Voci di corridoio parlano di una collaborazione con la Cliternina e non con il Termoli 1920.